Una rete di piccoli parchi agropolesi è l'idea del progetto del Meetup 5 Stelle, utile a stimolare l'amministrazione comunale per la realizzazione di un ecosistema diffuso di aree verdi attrezzate su tutto il comune di Agropoli. Una serie di piccole aree verdi fanno sapere con spazi dedicati ai giochi per bambini e adulti, dalle altalene ai campi bocce, panchine per leggere e chiacchierare tra amici, prati per il picnic, ma anche piccoli spazi recintati per lo sgambamento dei cani. Luoghi che possono offrire importanti servizi per la collettività in ogni zona di Agropoli, ma anche semplicemente garantire occasioni di socialità. Una rete diffusa, raggiungibile facilmente da ogni agropolese, con tanti piccoli parchi vicino casa. Un progetto di rete così fatto, fanno sapere, avrebbe un costo economico molto basso ma un fortissimo impatto sociale sulla cittadinanza, che soffre notevolmente la mancanza di aree verdi. Agropoli, infatti, è ben al di sotto degli standard urbanistici che dovrebbero essere garantiti in ogni città. Infatti, invece dei 9 metri quadri abitante, qui ce ne sono scarsi 4 metri quadri abitante. La ricaduta di tale investimento sarebbe principalmente in termini di vivibilità dei cittadini, ma anche dal punto di vista turistico. La rete dei piccoli parchi agropolesi è un progetto che è affiancato alla riqualificazione del Parco Bonifacio, in via Taverne, e alla realizzazione di altre due più importanti zone verdi attrezzate, come quella sulle sponde del fiume Testene o alle spalle del centrovisite Trentova, garantirebbero un salto di qualità in termini di vivibilità e verde pubblico importantissimo per la città di Agropoli. Inoltre, basterebbe veramente poco per rendere funzionale gran parte delle aiuole presenti in città.